Ciao ragazzi, sono Piazza e questa mattina mi sono svegliato e un po' di persone mi hanno scritto che un ragazzo mi aveva fatto un video parlando di me. Io penso, vabbè, ci sta, vado a vedere chi è e vedo che è Rampage in the Box, tra l'altro che conosco e che seguo sporadicamente, quindi penso, wow, ha parlato di me, vuol dire che mi conosce, strano. E vedo che dalla copertina del titolo già non mi quadrano, però dico, vabbè, apro il video, analizzo il video, guardo il video e Rampage di base fa un buon video. Perché? Perché è un video di denuncia verso chi fa qualcosa di sbagliato. Il problema è che ci sono tantissime inesattezze in quel video, ma davvero tante, perché lui inizia parlando di sponsor, di Red Bull, inizia a parlare di lucrare sulle persone e inizia a parlare di mille cose che certamente se non si sente l'altra campana è normale che lui abbia ragione per la tratta, perché se io faccio un monologo e non ho risposta, è naturale che una persona possa sembrare che abbia ragione. Il problema dove inizia? Inizia dove lui, giustamente, non avendo letto il contratto, dice tante cose non vere. Io immagino che qualcuno che il contratto l'abbia letto, lo abbia contattato, non lo metto in dubbio. Ma quella persona, il contratto, lo ha capito davvero? Allora, il discorso è molto semplice. Lui ha parlato di penale, di 10.000 euro, che è una roba scioccante, se non realizzi dei video appositamente sul mio canale. Cioè, se tu non fai dei video, se quello, le sue parole, se tu non fai dei video sul mio canale, dopo che hai firmato il contratto, io ti multo di 10.000 euro. Non è legale questa cosa, Rampage. Cioè, tu non sei una persona stupida. Non si può fare. Ok? Cioè, pensaci, non si può fare. Io ho mandato il contratto ai ragazzi per PDF, quindi è una cosa che non posso neanche più editare x giorni fa. Quindi questo video arriva oggi, che è il 20 gennaio, di conseguenza, se io ti dovessi mandare inoltrare quella mail, è un PDF, non posso modificarla. Tu leggi quel contratto, tu capisci realmente cosa c'è scritto, perché non sei stupido, ok? Quindi, piano, partiamo dalla base. Non puoi multare una persona se non fai dei contenuti. Chi cazzo sono? Cosa? Ma di base, secondo te, può aver senso una cosa così? Non lo so. Comunque, detto ciò, poi inoltre ha parlato di sponsor Red Bull e così via. Io ho conosciuto Red Bull al Games Week, mi hanno fermato per far due chiacchi e così conoscerci, ma l'ho fatto con tanti altri creator, non sono l'unico ovviamente, e mi ha fatto un'intervista, hanno preso degli spezzoli, hanno caricato l'intervista sul sito Red Bull e da lì siamo rimasti in contatto. Io ho avanzato la mia proposta del team CTR, mi fai il progetto non è male, ma oggi Epic Games non è aperta a collaborazioni con bevande energetiche. Quindi la cosa si è spostata un po' più sulla mia persona, su Andrea. Io più volte ho detto che la collaborazione con Red Bull è con la mia persona, è con Andrea. Molte volte l'ho detto. Il fatto è che tu giustamente da esterno, non seguendo il progetto, e non è un problema che tu non lo segua, perché è una cosa che non ti interessi, evidentemente non è un problema, sa questa cosa, sa che io più volte ho detto che la collaborazione è con Andrea. Io sono in buoni rapporti con Red Bull, io Andrea. Quindi questa qui è la seconda inesattezza nel video. La prima è il fatto della penale di 10.000 euro se non fai video. La seconda è il fatto che Piazza ha detto che... no. Cioè tu ascoltassi come si è evoluta la questione del team, sapresti questa cosa. Cosa che sanno tutte le persone che seguono il progetto in maniera seria, che giustamente seguono il progetto in maniera seria, ok? Giustamente una persona da fuori che non è interessata capta quello che può e poi capta l'informazione e poi realizza un video. Il problema è che questo video è pieno di inesattezze e questo crea confusione, crea il tanto amato e desiderato flame sulle piattaforme che io ho 7 anni che cerco di evitare perché non c'è motivo. Quindi io ho 7 anni che sono qui dentro e sono 7 anni che non ho mai avuto problemi con nessuno se non nell'ultimo periodo, magari qualche cosa stupida, ma niente di serio. Di conseguenza tu che hai anche 2-3 anni più di me, sei sveglio perché lo so, perché ho seguito quello che fai il tuo livello di lavoro, non mi aspettavo un video simile, ma proprio te lo dico da persona, al di là di YouTube, proprio da persona. Mi aspettavo che tu ti informassi un po' di più su questa cosa e che dopo accessi un video a riguardo. Dopo però, dopo che tu ti sei informato con certezza e così via. Perché tu inoltre nel video mi sembra che tu abbia detto ci sono anche delle prove, delle prove sulla penale, delle prove su cosa, vorrei capire, non ho capito. Perché il discorso Red Bull è più che chiarito. Io più volte ho detto durante gli aggiornamenti del team, ma sono mesi che lo dico, mesi che lo dico, che la collaborazione ad oggi si è spostata sulla mia persona. Red Bull ad oggi non collabora con l'ASTR, è una cosa che ho detto più volte. È quello il discorso che forse non è entrato. Però se tu giustamente le tante persone sono rimaste al punto 1 di quando eri in contatto con Red Bull per il team, non è rimasto al punto 1, ma ci sono altri 99 punti che ti portano al punto 100, che è il punto che ti sto dicendo ora. C'erano 99 punti di mezzo però, quindi un po' mi dispiace che tu non ti sia informato. Un'altra cosa che secondo me non ha molto senso è il tuo additare me per il fatto che io caricassi i contenuti dei ragazzi del mio team o altro. Allora, quando io vado a fare un provino per entrare nel mio team, magari vedo come giocano le persone a livello di gameplay e così via, nonostante io non sia un campione del mondo, ma non è quello il discorso. Le persone che fanno la partita con me o che giocano in duo o quello che è, sanno perfettamente del fatto che andranno sul mio canale, perché è una cosa che loro principalmente spesso mi chiedono, fa piazza, ma allora la carichi sul canale, perché è normale che io avendo 300.000 iscritti per una persona è un ottimo modo per uscire dall'ignoto, magari farsi conoscere, magari un player è forte. Io ho avuto la fortuna di lanciare molti player sulle piattaforme e di questo sono molto contento, molti youtube e molti streamer e di questo sono molto contento. Se non dà fastidio a chi crea il contenuto, cioè X crea il video, fa le kill e tutto, io sono Y, X è Y. Se X non ha problemi nel darmi il suo contenuto e io non ho problemi a caricarlo per dargli visibilità e altro, perché non lo so, c'è Z, che in questo caso saresti tu o tutti gli altri che sono esterni, hanno dei disagi di questo. Cioè, perché? X e Y vanno d'accordo, X crea il contenuto, Y lo carica sul canale. Perché a Z dà fastidio? Cosa c'entra? X e Y non è un alfabeto, X e Y basta, quindi non capisco perché questa cosa dia fastidio. Inoltre, molti altri canali come ho visto spesso su Brawl Stars, il gioco Supercell uscito da qualche mese in maniera globale, si fanno queste cose, ok? Con il gameplay di player a coppe gigantesche che magari fanno video in collaborazione o così via, proprio per farsi pubblicizzare, per farsi conoscere il gameplay. È una cosa che succede in tante community e non c'è mai stato niente di strano. Oggi è strano, non so come mai. Cioè, è stato su Clash of Clans, ai tempi, c'è stato su Royale, i giochi a cui ho giocato io, ovviamente, parlo gli altri, l'altro che i community non li ho conosciute tanto, quindi parlo di quello che conosco. È una cosa che, tutto sommato, l'ho vista fare più volte. Un'altra cosa che ho notato è il fatto che tu dica che solo chi fa l'abbonamento al canale Twitch può fare il provino per il team, quindi ci stai grabbando. È sbagliato anche questo, Rampage. Perché non è vero che tutti quelli che fanno la sub, fanno il provino, gli altri no. Il problema è questo, che ci sono tante inesattezze. Se tu mi seguissi su Twitch, sapresti questa cosa. E chi mi segue su Twitch lo sa. Chi mi segue su Twitch lo sa e lo sa molto, molto bene. Quindi, hai detto tante inesattezze in questo video, ed è un peccato, perché come ho detto all'inizio video, l'idea del video è ottima. Cioè, è una sorta di denuncia sociale verso chi sbaglia qualcosa. Ma in cuor mio io so di non aver sbagliato, di non aver commesso sgarri o errori, perché il discorso di Red Bull l'ho affrontato decine e decine di volte per mesi. Il discorso della penale è uscito adesso e quando ho visto il video avevo le mani in faccia, perché ho pensato che se uno del team è uscito e ti ha dato queste informazioni, va bene, ok, ma sono tutte sbagliate. Cioè, quindi a sto punto gli dico al ragazzo, giragli il contratto, fai prima e basta. Ok, io lo giri, tanto ormai gli hai detto tutto sbagliato, ma io lo giri poi per esteso a Rampage, così lo lancio e fidatevi che Rampage capirà cosa c'è tipo il contratto. Di certo non c'è scritto che se non fai contenuti nel mio canale vieni multato di 10.000, ma che non è legale, cioè è schiavismo puro, non puoi farlo in Italia sta roba. Così stai obbligando una persona a saloti multo. Il fatto che tu abbia detto questa cosa nel video, mi ha, sono sincero, pensavo stessi trollando, ma te lo dico da persona adulta, 23enne quasi, pensavo stessi trollando. Poi però ho visto che il video andava avanti e ho detto ok, non sta trollando, evidentemente lui pensa che sia davvero così. Ok, io mi auguro che tutti quelli che stanno andando questo video in cuor loro capiscono che sia una totale e gigantesca stronzata. Il problema è che tutto questo nascerà da uno dei due, credo, a sto punto, che ha lasciato il team e che ha girato informazioni, capite male, ma lì è l'età di base. Comunque i player che sono usciti dal team magari non avevano capito bene il contratto, non l'avevano letto bene e quindi hanno capito tutto quello che volevano tranne quello che andava capito. Ok, inoltre la penale oggi, l'unica, ve lo spiego, ve lo dico, così non ci giro intorno. Nel contratto c'è un regolamento a livello di etica e morale, di bestemmie, di insulti, di flame verso gli altri player in caso di eventi che deve essere rispettato perfettamente. Perché se tu vai ad un evento e insulti, flammi un player avversario in un torneo, la figura del team crolla. Di conseguenza io avevo messo una penale sul comportamento dei player in modo tale che tu semplicemente vincevi, perdevi, giocavi la tua partita, ti concentravi e pensavi a giocarti le tue partite tranquillamente, senza flammare, senza andare addosso ad altri. Ho rivolutato il fatto della penale che ad oggi tra l'altro non c'è più, tra l'altro oggi io mi auguro che i player che giocheranno gli eventi stiano tranquilli e che non andranno a flammare o a insultare o a mettere la mano addosso ad altri player. Quindi io mi sono fidato semplicemente che loro, in cuor loro, il buon senso gli facesse capire che non avesse senso andare a insultare i player. La penale riguardava quella parte lì, il fatto che se tu vai ad insultare ad un evento un player, stai danneggiando l'immagine del team che io ho creato e quindi è giusto che tu venga sanzionato, cosa che oggi è stata rimossa, ma ora è stata rimossa oggi 20 gennaio, è stata rimossa prima che il tuo video uscisse, di conseguenza era una cosa già ragionata, ma la penale non è se tu non fai dei contenuti sul mio canale, chi sono? Gesù? No, assolutamente no. Creare contenuti sul mio canale è una cosa che se vuoi, puoi fare, se dovessi farla noi sappiamo come funziona. Tutto qua. Quindi io ti invito da amico, da persona ad informarti su quello che avviene nel mondo, ok? Perché è sbagliato fare una denuncia sociale con dei fatti che non abbiano dei fondamenti, capisci? Perché di base il video non è sbagliato, ma ci sono tante piccole inesattezze, ok? E il discorso è questo, che è un peccato, perché avrei preferito che tu mi contattassi dicendo mi piace, ma questa cosa è vera? E hai delle prove che dicono che sia vera o lo dici solo tu? Perché tu hai detto anche che ci sono delle prove, delle prove su cosa? Delle prove sugli sponsor, che ho già parlato, delle prove sulla sanzione, che non ho già parlato, delle prove sulle sub obbligatorie per fare il provino, che non è vero e ne ho già parlato, su che cosa? Ti invito a rispondermi su Instagram a andrea piazza-vasso, se vuoi ti ho scritto e ci sentiamo lì se vuoi. Alla prossima, Rampage!